Buonasera e bentrovati, un nuovo appuntamento di Terzo Millennio, continuiamo la bella chiacchierata di ieri sera. Ieri ci siamo lasciati con due domande assolutamente fondamentali. La prima riguarda ovviamente la nostra meravigliosa città, sono state stanziate risorse specifiche per il Giubileo di Roma. Cosa c'è in programma? E l'altra ci interessa in modo molto particolare perché riguarda poi gli investimenti delle PMI. Sapete che le PMI italiane hanno un estremo bisogno di risorse finanziarie e soprattutto la possibilità di un accesso al credito easy, smart, che è stato un po' titubante anche durante il periodo Covid. Quindi ci sono misure agevolate che vengono rifinanziate nel fondo di garanzia e della nuova Sabatini. Cercheremo di capire cosa succede e cosa succederà con l'onorevole Luciano Ciocchetti, bentornato. Buonasera. Con Maria Teresa Titti di Salvo, presidente del nono municipio. Buonasera. Con l'onorevole Marco Silvestroni, componente della commissione trasporti poste e telecomunicazione per Fratelli d'Italia. Buonasera. E con il dottore Roberto De Marco, dottore commercialista. Buonasera. Buonasera. Allora inizierei subito con lei perché insomma la cosa è molto interessante, poi entriamo un po' nel mood del giubileo perché ci interessa da vicino capire quanto questi momenti siano importanti per la crescita di Roma. Ma questo accesso al credito, questo rifinanziamento del fondo di garanzia, lei ci crede perché prima insomma sono stati venduti cifre spropositate e la facilità di accesso al credito, poi de facto quando andavi a chiedere soldi, ti chiedono il rating, ti chiedono questo, ti chiedono quell'altro, ci sono tutte le normative di Basilea, cioè non era così facile. Tanti crediti non sono stati erogati nonostante una garanzia dello Stato quasi al 100%. Come mai questa cosa, dottore? Purtroppo il tema dell'accesso al credito è un tema con cui si confrontano quasi tutte le imprese e quasi tutti gli imprenditori, ovvero è spesso difficile il rapporto con le banche. Soprattutto in questo periodo, perché le banche non ne parliamo, sennò non ne usciamo via. Da quando si è iniziato a parlare di Basilea, quindi con le nuove normative di Basilea, si sono molto strette i cordoni delle banche, sono molto stretti ed è diventato sempre più difficile per gli imprenditori avere effettivamente questo accesso al credito. Però c'è la garanzia dello Stato al 100%, quindi la banca non si fida dello Stato. Però la banca comunque deve fare il suo iter, comunque deve fare le sue verifiche, comunque vuole verificare la renditività dell'investimento che viene fatto, quindi non è proprio così automatico come uno penserebbe, cioè c'è una garanzia dello Stato e la banca dovrebbe erogare facilmente. Questo l'abbiamo visto anche addirittura con le garanzie al 100% che di fatto poi le imprese e i soldi non li avevano lo stesso, perché comunque c'erano sempre dei problemi nel rapporto tra imprenditori, imprese e banca. No, perché sulla carta la misura agevola, esattamente, macchinari, impianti, beni strumentali, beni di impresa, leasing, attrezzature nuove e tutto quello che è immateriale, quindi tutto quello che porta al digitale, di fatto. Però poi in realtà, autorevole Ciocchetti, diciamo, secondo lei, ci smarchiamo un po', riusciamo ad avere un po' più di credito, è meno difficile rispetto a prima? Non mi rispondo, ora c'è Draghi. No, intanto è sicuramente una misura importante che venga rifinanziata nuovamente. Assolutamente. Però è un credito d'imposta, non è un finanziamento diretto. Chiaro, chiaro. Qui sono due cose diverse. Eh già. La domanda che ha fatto a De Marco era riferito invece ai finanziamenti diretti da parte del sistema bancario, oppure garantire lo Stato. E probabilmente, diciamo, la grande manovra in cui Conte andava in conferenza stampa, abbiamo messo 400 miliardi per a disposizione, probabilmente andrebbe rivista quella questione, semplificando il rapporto delle responsabilità delle banche. Mi perdoni, mi interrompo, questo punto è importante, vengo qui vicino a lei, perché nell'immaginario collettivo ci sono le banche cattive che nonostante, è importantissimo questa cosa che ha detto, che non danno soldi perché devono avere la doppia garanzia, la garanzia ovviamente dello Stato e anche una garanzia personale o della società e quindi il rating e tante altre cose. Un po' è così. Però poi c'è anche tutta questa burocrazia pazzesca, no? Non è stato affrontato il tema della responsabilità di chi, diciamo, formalmente eroga il finanziamento, cioè del direttore della filiale o della banca, perché questo mi hanno spiegato, io non lavoro in banca, quindi non lo so, ma mi hanno spiegato alcuni che sono direttori di banca che comunque la loro banca gli ha detto guardate che le responsabilità in vostro capo rimangono, non sono state superate e quindi probabilmente ci sarebbe da affinare legislativamente questa parte del problema perché dovrebbe aiutare a superare anche le norme europee di Basilea 2, Basilea 1, Basilea 3 e tutta un'altra serie di questione in cui c'è anche responsabilità penale da parte di chi eroga finanziamenti se non c'è una garanzia di copertura e di possibilità di restituzione del credito che è stato rilasciato. Credo che il limite di quel tipo di intervento sia stato questo, però poi non sono un esperto in materia, quindi non sono in grado di poter dare una risposta compiuta, ma sicuramente moltissimi hanno ricevuto un no, come veniva ricordato, da parte del sistema bancario. Che sotto Covid è un no brutto. Non di una cattiva e di una buona in generale. Prego Di Salvo. Io condivido quest'ultima cosa detto. Sta lasciando un amore politico. Sulla difficoltà del meccanismo. E' la mia Presidente. Sulla difficoltà del meccanismo e quindi condivido il fatto che bisogna toccare lì, andare a vedere lì per oleare il meccanismo. E come? In che modo? Però ci tenevo a dire una cosa. Prego. Che è particolarmente importante il rifinanziamento della Sabatini perché siamo in una nuova fase. Questa è una fase in cui la rivoluzione digitale, la pandemia, ha accelerato i processi di cambiamento organizzativo produttivo del lavoro. Rifinanziare la Sabatini vuol dire sostenere soprattutto le piccole imprese che sono l'ossatura, come diceva lei, del sistema produttivo italiano, esattamente sull'investimento in beni strumentali. Quindi è uno dei nodi, quello del cambiamento del sistema produttivo e quindi dell'investimento in beni strumentali. Questo è un punto molto rilevante. Per cui naturalmente penso che bisogna intervenire perché intanto quel meccanismo funzioni in modo automatico, il credito di imposta aiuta. Invece altro tema è l'accesso al credito, che è un tema parallelo. A Sabatini il credito di imposta è di per sé più semplice. Prego, prego. Sembra sempre che sono polemico, ma di fatto oggi ho il terrore di trovarci come è stato con Conte Bis, quella grande potenza di fuoco per accesso al credito, dopodiché in realtà non c'è stato. Non c'è stato perché se non si interviene... Sono colpi a salve per usare una battuta. Perché ha ragione Ciocchetti quando parla del... Il problema è che se non si interviene, e questo lo deve fare il Parlamento, sul diritto bancario è inutile fare la semplificazione dell'accesso perché poi c'è il diritto bancario che segue un'altra strada e le banche si attendono al diritto bancario. Quindi va modificato il diritto bancario nella semplificazione. No, sorrido perché sto vedendo che con grande difficoltà sta cercando di non tirare fuori l'argomento MPS con grande difficoltà. No, no, di là del... Si sta trattenendo proprio. Ma no, invece no, ti dirò fuori il problema che poi le PMI hanno, il problema del lavoro. Dei lavoratori, del costo del lavoro, hanno il problema senza nascondersi del reddito di cittadinanza perché io non so voi e non credo io di abitare sulla Luna. Io ho passato un'estate dove venivo contattato da imprese, meccanici, imprese edili, meccanici, ristoranti perché non c'era più nessuna persona che voleva più andare a lavorare. Ora ci arriviamo al reddito di cittadinanza che anche questa è una cosa abbastanza singolare. Stiamo parlando ovviamente del giubileo. Tante proposte per Roma, quindi Onorevole Ciocchetti, secondo lei stiamo nella giusta direzione per la nostra città, a prescindere da chi la governa. Il giubileo nel 2025, a meno che non c'è Mandrake adesso al Comune di Roma, alla Regione Lazio, allo Stato, credo che in tre anni si farà poco perché si può fare poco. Probabilmente si può fare se riusciremo a prendere le spot del 2030 avendo di fronte un lasso di tempo molto più ampio perché purtroppo non credo che nei cassetti del Comune di Roma esistano progetti già definiti anzi mi risulta che non ci sono o comunque sono assolutamente insufficienti per poter fare e poi i tempi delle gare, i tempi della realizzazione dei finanziamenti sappiamo bene cosa significa fare i lavori a Roma sovrintendenze, le autorizzazioni e tutto quello che serve. quindi si potrà fare una grande pulizia di decoro della città già questo sarebbe una cosa particolarmente importante ce la meritiamo dopo 5 anni di assoluta mancanza di decoro di Roma è in corso la conferenza stampa in questo momento è stata fatta recentemente la conferenza stampa di Roberto Guattieri il problema è che non basta pulirla una volta sola perché poi il problema è fare un intervento si chiama pulizia straordinaria, poi bisogna intervenire serve una programmazione adesso riferendosi al giubileo chiaramente mi riferisco anche ad altre questioni che non sono solo la cosa importante della pulizia della raccolta della mondezza come si dice a Roma ma il tema delle strade, delle buche, dei marciapiedi di tutto quello che in qualche modo sono i servizi di una città che funziona e quindi si potrà fare poco in 3 anni però spero che si inizierà a fare qualcosa che almeno ridia dignità e decoro alla città quindi da questo punto di vista chiaramente se questo sarà e se la nuova amministrazione comunale con la regione, con il governo e compagni avari farà un investimento noi quando ci sono amministrazioni al di là del colore politico che investono sulla città che investono sul decoro e la dignità di Roma ci saremo sempre come credo che il nostro gruppo parlamentare anche in Parlamento abbia sempre dimostrato sulle cose serie e importanti come il nostro gruppo consigliare in regione come sarà il nuovo nostro gruppo comunale a Roma che potrà sicuramente dare un aiuto quando ci sarà possibilità di condividere alcune cose che mettono al centro l'interesse dei cittadini romani quindi se fra tre anni quindi in realtà il sindaco, la nuova giunta la stupiscono noi facciamo qua un accordo e lì porta la maglietta di Mandrake perché voglio dire che hanno lavorato bene prego Di Salvo dicevo che questa cosa è molto importante io la condivido c'è un interesse istituzionale in particolari momenti che supera la giusta dialettica politica ci mancherebbe siamo in democrazia tre anni non sono molti ma noi dobbiamo avere presente una cosa intanto il giubileo è un appuntamento religioso vuol dire flusso di persone di pellegrini noi dobbiamo assicurare a Roma in tre anni l'accoglienza si stanno immaginando per esempio di una cosa diciamo simbolica ma concreta le case dell'acqua cioè punti di ristoro l'accoglienza la presa in carico di quelle persone e poi bisogna assicurare che quelle persone così come i cittadini romani si possono muovere certo quindi gli interventi in questi tre anni sono interventi nei primi cento giorni le case dell'acqua le case dell'acqua si sono punti di ristoro che si stanno immaginando si chiama casa dell'acqua le ha annunciate il sindaco Gualtieri qualche giorno fa quando ha commentato positivamente quando ha commentato positivamente l'incremento di un fondo preesistente sul giubileo di un miliardo e mezzo quando ha commentato positivamente questo diciamo questo rimpinguamento del fondo ha appunto cominciato a annunciare una serie di misure che naturalmente saranno riguardando il collegamento più veloce tra termine fiumicino ovviamente tra i punti di snodo e il Vaticano quelli sono gli interventi immediati pensando al giubileo e l'accoglienza dei pellegrini prima però prima però mi perdono bisogna fare le cose che ha detto poco fa l'onorevole Ciocchetti cioè bisogna pulire Roma lavorare no le stavo aggiungevo che pulizia e decoro come voi sapete è stata fatta appunto questa conferenza stampa del sindaco Gualtieri in cui ha annunciato la pulizia straordinaria della città due cose la pulizia straordinaria che parte all'inizio di novembre è uno sfalcio straordinario perché l'altro tema è l'erba e lo sfalcio straordinario ragionare anche per dopo cioè pulizia straordinaria se me la fa dire gliela dico anche per dopo prego prego cioè la so anche per dopo ah prego prego è preparatissimo ok prego no dicevo adesso a parte a parte gli scherzi naturalmente è molto serio quello che lei ha detto che ha detto anche l'onorevole Ciocchetti che c'è una questione di emergenza per ridare dignità decoro tranquillità anche un po' di tranquillità alle persone e poi c'è invece una cosa molto seria che è raggiungere l'autonomia della città sui rifiuti sulla raccolta e sullo smaltimento l'autonomia che oggi non c'è io penso per esempio non perché sono diventata neopresidente del nono municipio che una delle soluzioni strutturali sono le ama di municipio con dei manager in ogni municipio che abbiano la responsabilità i mezzi e le risorse per occuparsene perché oggi non è così oltre alla governance dell'ama c'è un tema che riguarda le responsabilità a livello municipale io sono perché si passi dalla gestione Roma il mio municipio ha 183 mila abitanti e la diciannovesima città italiana in termini di abitanti come è possibile immaginare di assicurare decoro e pulizia dal Campidoglio complicato no? no chiaro perché poi in realtà si pulizia straordinaria tutto quello che volete rimettiamo Roma pulita perfetta immacolata dopo tre giorni siamo come prima quindi in realtà va fatto un lavoro strutturato speriamo che pulirà anche il sesto municipio io spero che sicuro perché no che c'ha il sesto municipio che non va bene no che non è stato l'unico presidente non convocato nella regione con i presidenti va bene io per cortesia prego Silvestroni una cosa almeno mi auguro che nel 2025 quando ci sarà il giubileo non ci sarà più la Lamorgese almeno non ci saranno problemi di ordine pubblico questo secondo me già potrebbe essere una cosa già sta oltre e al di là di questo voglio dire io mi auguro che Gualtieri in quattro anni da qui al 2025 abbia risolto veramente il problema della raccolta dei rifiuti su Roma perché a oggi ricordo a tutti la Raggi insieme a Zingaretti l'hanno risolta andando a portare come l'hai chiamata te prima Luciano la Monnezza in provincia di Roma nello specifico nella discarica di Albano Laziale che era una discarica chiusa che l'ha riaperto creando un danno enorme dal punto di vista ambientale ai cittadini non solo di Albano ma che vanno sul litorale quindi voglio dire di lavoro in realtà ce n'è tanto sicuramente da fare poi parlavamo di infrastrutture quando dicevo prima che hanno fatto sul PNRR e dal 2025 ricordo a tutti che c'è il secondo aeroporto di Roma che è quello di Ciampino che non ha nessun collegamento con la capitale tranne avere il treno che però dall'aeroporto a prendere il treno che sta al Ciampino centro e quindi un investimento da parte del Comune di Roma e quindi di Qualtieri dovrebbe essere progettato io veramente c'è più di un progetto portato avanti ogni volta che lo presento non ha neanche un costo enorme l'ultima volta che lo ho presentato hanno scelto di in realtà potenziare la metropolitana di Torino io ho chiesto 5 milioni di euro per la progettazione loro 700 milioni perché dice che a Torino la metropolitana la pendino dice che non andava molto bene per dire poi vanno fatte delle scelte secondo me importanti ci auguriamo che questa amministrazione di Roma e che il governo agisca e usi questi soldi che ricordiamoci tutti indebitano le nuove generazioni perché sicuramente non ce l'hanno regalati e che facciano le cose in realtà concrete e che fatte bene e che servono ai cittadini allora è uscito prima il discorso del reddito di cittadinanza a proposito del reddito di cittadinanza verranno messi in atto controlli più precisi e i requisiti dovranno essere ben strutturati e credo che questo sia assolutamente giusto perché ci sono tante persone che proprio hanno avuto necessità e hanno necessità del reddito di cittadinanza proprio per questione di sopravvivenza ma poi ci sono i classici furbetti allora De Marco il reddito di cittadinanza secondo lei è un po' inficiato sul mondo del lavoro cioè lei che è in contatto poi con aziende anche le aziende che contattano che ha diciamo come clienti hanno visto che è difficile poi avere trovare persone che fanno i lavori diciamo non di bassa manovalanza perché non è un termine carino ma lavori semplici pratici di reddito più basso diciamo così una fascia reddituale più bassa sì è un problema ma è un problema grosso perché in questo momento storico è difficile trovare certe categorie di lavoratori questo probabilmente è dovuto anche all'effetto del reddito di cittadinanza c'è chi preferisce tra virgolette stare a casa non fare nulla piuttosto che andare a lavorare più o meno per quasi lo stesso lo stesso reddito quindi questo è sicuramente un problema il reddito è troppo basso oppure c'è perché le persone non hanno voglia lavorare c'è un problema che poi è quello del cuneo fiscale cioè di quello che è il reddito in busta paga netto rispetto a quello che costa il datore di lavoro quindi sicuramente va ridotta questa forbice mi spiega questa cosa in modo più preciso del reddito netto perché ricordiamo che le aziende in realtà hanno un costo e al lavoratore arriva una cifra cioè un costo azienda e quant'è per far capire quanto poco arriva rispetto all'erogato facciamo 100 erogato netto al dipendente e all'azienda mediamente costa intorno a 160 allora se noi riusciamo a ridurre cioè non che costi 150 ma che io possa avere sempre il costo di 160 però magari dare 120 al dipendente migliorerebbe sicuramente il reddito del dipendente probabilmente costa uguale all'imprenditore costerebbe la stessa cosa e probabilmente potrebbe risolvere il problema di queste categorie di lavoratori che in questo momento sono diventate mercerate quindi il lavoro diventa più appetibile e forse meno furbetti sul reddito di cittadinanza allora il reddito di cittadinanza Silvestroni me l'ha citato lei poco fa è una cosa secondo lei fatta veramente poco bene questa questa modalità con controlli più precisi e requisiti la trova d'accordo oppure l'avrebbe tolto d'amblè? Allora è chiaro che i controlli più precisi servono perché abbiamo visto è sempre e continuamente in questi giorni sappiamo di persone comunque arrestate proprio perché comunque hanno fatto oggetto di truffa il reddito di cittadinanza ma non è che però lo penso io i primi disoccupati del 2022 saranno i navigator che erano quelli che dovevano trovare lavoro a chi soffriva del reddito di cittadinanza che non verranno rifinanziati e che saranno i disoccupati dei primi ma perché hanno lavorato male qual è stato il problema perché la figura del navigator sulla carta come tante cose che propone la politica perché la politica propone un sacco di cose meravigliose sulla carta la figura del navigator è una figura poi giusta io prendo il reddito di cittadinanza e ho una persona che mi indirizza nel mondo del lavoro c'è stato un cortocircuito questa cosa non ha funzionato è normale se prima non si fanno tutte le politiche di investimento per far sì che si crei lavoro è inutile che metto il navigator che trova lavoro dove lavoro non c'è all'estero noi diciamo sempre lo dice l'Europa in Europa fanno ma all'estero per esempio in Inghilterra almeno una volta ero così poi non vorrei essere smentito che da ieri non è più così c'è una forma di reddito di cittadinanza che è dura perché siccome c'è questo grande flusso e mobilità del lavoro e quindi si perde il lavoro hai mutuo da pagare l'affitto di casa lo Stato ti dà la possibilità di sopravvivere finché non trovi un altro lavoro di sopravvivere in Italia non è così in Italia se io percepisco 750 euro di reddito di cittadinanza e mi chiedono di andare a lavorare per 1000 euro al mese e non vado a lavorare sotto casa io preferisco prendere 750 e stare a casa chiaro quello è chiaro voglio dire va cambiato completamente il sistema però il reddito di cittadinanza voi siete d'accordo oppure no domanda risposta è un cioè fatto in modo diverso io personalmente noi non siamo d'accordo al reddito di cittadinanza noi crediamo che bisognerebbe intervenire invece sulle imprese sgravare le imprese abbassare le tasse di terre e dare quei soldi eventualmente dai reddito di cittadinanza quello che diceva quello che diceva perfettamente a quello che diceva prima e da risolto sono due cose diverse nel senso che c'è una misura contro la povertà ci vuole necessaria per tutti i paesi il problema del reddito di cittadinanza prima versione diciamo fatta precedentemente che confondeva misure che riguardano le politiche attive del lavoro con misure contro la povertà quindi bisogna distinguere da un lato una misura contro la povertà poi invece per attivare il lavoro e creare lavoro bisogna intanto investire sui servizi agli impiegi cioè il navigator non aveva una struttura su cui agire questo è il punto ma aggiungo anche una cosa che ha detto prima De Marco e che condivido io la dico così vogliamo anche dirci che i salari in Italia sono molto bassi vogliamo dirci questo perché questo ce lo dobbiamo dire di fatti veniva detto il potere d'acquisto meno della metà che in Germania quindi insomma veniva detto giustamente riducendo il costo del lavoro perché è incredibile che l'edito di cittadinanza sia concorrenziale con una retribuzione di otto ore al giorno per un mese incredibile non dovrebbe essere così però le faccio una domanda però ci sono tanti soldi ovviamente per la formazione 4.0 formazione che sono tutti quegli strumenti per cercare di capirsi in modo semplice che formano il lavoratore sono degli strumenti sulla carta molto funzionali perché io in qualche modo do degli strumenti per implementare il know-how del lavoratore che ha un curriculum più importante l'azienda ha degli sgravi fiscali e risparmia con il credito d'imposta questo più o meno è il meccanismo ho detto bene dottore se sbaglio me lo dica senza problema un fiscalista perfetto grazie allora detto ciò quindi ci sono tantissimi soldi sulla formazione però poi non c'è lavoro e noi facciamo i navigator cioè è un po' un controsenso c'è qualcosa che non mi quadra però il meccanismo della formazione cioè il punto è questo che è cambiato il modo di produrre è cambiato il lavoro la formazione va finalizzata a mio avviso dovrebbe essere il nuovo articolo 18 diciamo così soprattutto dai lavoratori c'era un articolo che era l'articolo 18 che era il cuore di tutto il nuovo articolo 18 cioè l'unico vero strumento di tutela e promozione per le persone da qui in avanti è la formazione permanente naturalmente le cose vanno le politiche devono essere di sistema se fai una cosa sola non risolvi nulla devono essere di sistema cioè devi fare delle cose insieme però questa l'ho fatto all'incontrario fai la sabatini per finanziare l'acquisto di beni strumentali ma magari le piccole imprese gli fai anche un corso per saperli usare ma le metti in rete per fare la formazione che la singola piccola impresa non si può permettere eccetera eccetera le politiche devono essere di sistema da questo punto di vista a mio avviso naturalmente il mio c'è un cambio cioè con la presidenza Draghi e la nuova legge di bilancio credo anche in virtù della lezione della pandemia che non è ancora risolta a mio avviso c'è un cambio nel capire che ci vogliono politiche di sistema quindi finalmente mi dice riusciremo finalmente a utilizzare questi soldi dell'Europa perché ricordiamo che noi siamo campioni d'Europa in tutti i sensi dal volley al calcio ma siamo anche campioni d'Europa nel non saper spendere i fondi europei Ciocchietti lei questa cosa la sa perfettamente questa parte qua perché io concordo su quello che dice però siamo sempre lì c'è un cambio il cambio ad oggi ancora non si vede e non è neanche programmato perché non usiamo cose più semplici e di buonsenso prima mi dicevi qual è la posizione sul reddito della cittadinanza noi siamo per aiutare chi non può lavorare e aiutare chi può lavorare quindi come diceva prima il dottore De Marco di aiutare le imprese per assumere chi può lavorare chi non può lavorare si aiuta così non andava bene poi il sistema la rete la formazione va tutto bene ma se prima non si crea il lavoro e non si dà la possibilità chi lo deve creare il lavoro di realizzarlo rimangono sempre secondo secondo noi dobbiamo salutare gli scampioni d'Europa nel non saper spendere i fondi europei cioè più della metà tornano indietro oltre a non spenderli li spendiamo male nel senso che per esempio avete citato la formazione la formazione è gestita dalle regioni ed è sono utilizzati il fondo sociale europeo per finanziare la formazione professionale il problema io voglio mi piacerebbe fare un esame e una verifica quanti posti di lavoro hanno creato le formazioni parlo di tutte le regioni in generale le formazioni che noi facciamo utilizzando i fondi europei quanti posti di lavoro hanno creato? zero cioè nel senso che purtroppo noi facciamo una formazione al lavoro spendendo molti fondi europei non collegato all'esigenza del mercato del lavoro mentre bisogna questo è quello però se tu fai le politiche reddito di cittadinanza i navigator il sostegno alle piccole e medie imprese con altri provvedimenti poi le regioni fanno la formazione professionale e queste cose non le metti insieme non funzionerà mai non può funzionare non può funzionare però qui ci vuole la politica scusa i navigator stavano ma poi li hanno caricati alle regioni i centri per l'impiego prima erano delle province e poi sono state passate alle regioni ma i centri per l'impiego non funzionano è il vecchio ufficio collegamento quando ci andavo io 40 anni fa a mettere i timbri ma che posti di lavoro trova ha mai ricevuto una chiamata ma non c'è non funziona il sistema infatti io sono preoccupato anche adesso la riforma che viene fatta ma chi verifica se io ho avuto un'offerta o due offerte di lavoro perché lo posso avere Luciano Ciocchetti c'è un'impresa chiama una persona gli offre un posto di lavoro e quello c'è reddita cittadinanza e dice io dove lo comunico e quello mi ha detto di no cioè il problema è che il sistema può ridurre da 3 a 2 ma non funziona perché ci sarebbe bisogno di un sistema che sia collegato e quindi se io vengo chiamato ad un albergo da un ristorante da un'impresa edile oggi col 110% il bonus le imprese edili hanno difficoltà a trovare lavoratori cioè persone non li trovano e quindi noi purtroppo questa misura che è una misura importantissima ha fatto ripartire l'edilizia ma rischia in molti casi di non poter vedere i suoi propri effetti quindi c'è un problema anche degli annunci di lavoro di un corto circuito che insomma andrebbe in qualche modo governato in maniera diversa ci dobbiamo salutare quindi in realtà la politica deve fare sistema c'è questa problematica italiana molto importante tra Stato regioni comuni una confusione totale speriamo che le cose vadano meglio se avete domande la nostra redazione è a vostra completa disposizione per questa cosa faremo una puntata perché questa cosa del reddito cittadinanza è molto interessante va sviscerata perché è importante che venga capito che è un qualcosa di importante ma va fatto in modo completamente diverso se no non può funzionare io sono d'accordo con lei su questo ringrazio l'onorevole Luciano Ciocchetti grazie grazie a voi ringrazio Maria Teresa Titti di Salvo la neopresidente grazie a voi l'onorevole Marco Silvestroni componente della commissione trasporti poste e telecomunicazioni per Fratelli d'Italia ce n'ha da fare è tanto assolutamente ringrazio il dottor Roberto De Marco dottore commercialista buonasera anche lui impegnatissimo in questo periodo posso riuscire a cartelle cose ragazzi non è facile credo cercare di assistere le aziende nel modo giusto l'appuntamento con Terzo Millennio torna immancabilmente domani passate una buona serata e grazie grazie